che ne pensi di come i grandi e le banche stanno attaccando le cripto monete e un loro gioco come sempre per acquistare poi loro loro stesso prezzo inferiore voglio eliminare per poterci continuare a controllarci meglio allora nick ele bella domanda parliamo un po di cripto valute va bene anche perché ormai sono nell'occhio del ciclone prima perché sono arrivati nei mainstream quindi ultimamente i bitcoin sono arrivati a 20.000 dollari o 15.000 euro entrati in tutte le televisioni partita la criptomania tutti quanti volevano comprare cripto valute e c'è gente che è diventata milionaria miliardaria o meglio che era diventata perché se hanno venduto prima lo sono diventati negli ultimi giorni che cosa è accaduto in realtà era prevedibile in realtà l'avevo anche previsto mi sono pentito di non aver seguito la mia previsione come volevo io era prevedibile che cadesse tutto un po' perché adesso vogliono controllarlo è ovvio che il sistema gli da che al sistema gli da fastidio il fatto che io esca che io faccia sparire il mio denaro e lo possa gestire senza passare dalle banche adesso stanno cercando di legalizzare tutto perché vogliono che tu paghi le tasse sulle cripto giustamente mi può anche star bene pagare le tasse sulle cripto ma non mi puoi bloccare il fatto o meglio non puoi cercare di voler controllare qualunque mia mossa che in realtà è quello che fanno quindi con le criptovalute si è creato questo sistema di decentralizzazione che è poi il futuro che permette in realtà di uno non avere una logica centralizzata in mano a una sola banca anche perché se poi chiude la banca su cazzi come abbiamo già visto sia in America che in Italia due io posso gestirmela anche senza la banca tra l'altro a costi molto più bassi e con una velocità immediata quindi la decentralizzazione, le criptovalute danno dei vantaggi immensi è chiaro che dà fastidio a chi controlla quindi stanno cercando di bloccare tutte le vie d'ingresso e tutte le vie d'uscita in maniera tale che la cosa si possa controllare in realtà adesso siamo in fase di panic selling per cui la gente sta vendendo di tutto di più e siamo probabilmente in uno dei momenti migliori per comprare io ho già comprato tutto per cui sto aspettando che risalgano bisogna soltanto aspettare nei momenti di panic selling è il momento migliore davvero ed è dove si possono fare i soldi veri però ne devi avere tanti a disposizione perché potresti rischiare di perderne ancora come sta accadendo perché qualunque momento compri adesso hai comprato troppo presto però poi quando ribalzerà sarà divertente ci vorrà un po' adesso perché consideriamo che nell'ultima settimana forse ha perso due terzi del proprio valore però ricordate sempre una cosa questo accade anche nei mercati finanziari quando il mercato scende scendono tutte le azioni a prescindere dalla bontà dell'azienda e questa è l'assurdità dei mercati per cui dietro ogni azione nei mercati finanziari e dietro ogni criptovaluta all'interno dei mercati del cripto ci sono delle aziende, dei progetti, delle persone, dei team per cui il mercato scende e tutti vendono ma la qualità dell'azienda non è che cambia quindi l'azienda che andrà avanti seriamente come poi insegno nel corso sulle criptovalute a scegliere le aziende giuste quindi le cripto giuste quelle risaliranno alla grande perché tanto dietro ci sono aziende che nel momento in cui partiranno come Dio comanda faranno quello che devono fare e infatti adesso è il momento di accaparrarsi quelle monete a tutti i costi infatti io sto continuando a comprare anche se continuano a scendere quindi perdendoci adesso ma perché mi metto in casa monete di aziende che faranno storie almeno si spera che faranno storie poi magari alcune le prendi, alcune no però è importante a volte basta prenderne una giusta che ripaga un po' tutte andiamo avanti se non sapete cosa sono le criptovalute ci sono i vari corsi su Anaera che lo spiegano e vi posso garantire che è il momento di imparare soprattutto questo perché adesso siamo nel momento in cui il treno sta tornando indietro a prendere chi si è perso il primo passaggio anzi forse stiamo scendendo ancora più in giù di prima quindi adesso davvero è il momento di investire ma investire sempre con la giusta logica cioè seguendo le regole della piramide finanziaria investendo solo quello che siete disposti a perdere in non più del 10% del vostro patrimonio eccetera 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 come spiego sia nel corso di mentalità finanziaria quello gratuito sia su quello, sulle cripto per chi vuole approfondire grazie a tutti Grazie.